Benissimo, abbiamo capito quali erano i prodotti della nostra terra, il meteo in cui ci stiamo interessando. Una curiosità però, il sistema ha una importazione, venivano importati i prodotti particolari, poi l'economia è in tendenza a un meteorologo sufficiente, cioè un po' questi sono dei siti medievali, cui si cerca di consumare, anzi l'economia locale importa materiali che servono delle costruzioni di banche, per esempio, perbici, perbino, queste cose qui, anche robotti nuovi, però tendenzialmente è una società che cerca di essere autosufficiente. I prodotti della terra, i prodotti dell'allevamento, i prodotti dell'artigianale, questo è anche interessante osservare una serie di attività artigianali che ormai non esistono più, ma che allora erano molto importanti, e altre importantissime sono soprattutto quelle dei grani, perché la nostra terra si è vera che produce di parte anche del grano, e Vincenzo Astarita ce lo ricorda molto spesso, che si può produrre grano anche dalle nostre parti, però non è così esteso, territorio, e quindi venivano importanti grandi quantità di grano, in genere dalle zone del meridione d'Italia, o addirittura anche dalla Puglia, facendo la circunanificazione del territorio. Via terra quasi niente, perché il territorio è difficilissimo da percorrere. Oggi noi andiamo via terra in tutti i momenti, ma non solo via mare, anche perché i grossi carri, in grano, non potevano essere portati solo via mare, via terra, via carri, a parte che le strade non c'erano, poi sono molto difficili da praticare, questo lo finavano fino all'ottocento, perché non c'erano strane. e quindi via mare, per esempio da Marina di Salerno, da Marina della Parria, dalle spianci della Sicilia, che è un serbato, diciamo così, un grande serbatoio, un grande cranato, soprattutto il 5 e il 6, con una particolarità che a voi non ricordate, fra i tanti problemi della vita quotidiana c'è pure quello della pirateria, per cui mettersi in mare per commerciare era un bel problema, una volta bisognava fare il testamento, prima di partire, perché è vero che si faceva spesso un viaggio, costa a costa, un cammino di, una navigazione di piccolo cammino, però i virali, non durante le guerre, ma durante le periodi di marce, perché si appostavano, con le loro, con le loro parche, dietro i promontori, gli facevano delle sortite, improvvise, e derubavano, quando andava bene, il carico, quando andava male, prendeva anche le persone, e le facevano scari, quindi c'è questa difficoltà generale, della vita quotidiana, che abbiamo parlato, di considerare una cosa chiusa, la tendenza è chiaro, che si verrà, fare qualche domanda, prego, passate per il microfono, grazie, complimenti per la relazione, volevo chiedere, ci sono dei riferimenti ai bambini, quindi all'età giovani, solo riguarda, all'obbligo, regolamentato, ma lontanamento, ma non ho visto, nessuna regolamentazione, di ordine sanitario, o perlomeno qualcosa, che in qualche modo, regolamentare,